che è cresciuta negli anni perché si vive bene, perché i prezzi sono giusti, perché c'è una qualità della vita, i servizi nonostante le difficoltà funzionano e funzionano bene, le tasse non sono aumentate a dismisura come invece sono aumentate nei comuni vicini. Questo è un dato di fatto. L'altro aspetto è che noi abbiamo iniziato un percorso amministrativo, stiamo governando questa città, Giovanni è bravo e capace ma i nostri uomini e le nostre donne hanno dato un contributo a governare e quindi è una questione anche di coerenza, di rivendicazione dei risultati positivi che ci sono e di continuità. L'altro aspetto è la persona perché è chiaro che le cose si devono anche coniugare con la qualità amministrativa e anche la qualità umana. Io invocco a tutti.